Boh! Bissi nonico! Promenada di Corana! No! Noi! Vede di te la nitala, nile i pili! Ma la lingua sta chiedendo in camberi fai! Ma la lingua sta chiedendo! Mi ha piaccato alla stalla ai artisti! Oi! No! Ma la lingua sta chiedendo! Ha? Seriñate! Kaga! Alela! No! Di te se! Ma siak! Aspali in ca la hancale guritu! Gesù! . E queimaneidarite nel arcanale Gesù Ma due volte. no me non no Non mi vuolù sai ero isario! Mi... ...ma mi ha... ...ma mi ha... ...ma mi sta pituo! ...e l'è rihola! Allora, non ho fare tirare in schienecos Complimentera hai... un uccchiolo noi, pericolosi ma che... in Gaia-cheino, l'Ambursalema... pericolosi perché ti ti mancavi Noni tinha voltato, guardatevi, uuuuuu. Ne, arrivi qui te nhano. Ma devi gozzi. Ne, verete che? Dei evo, oto già veniamo sattenti. Eh, te ne vedi mosti. Non sono più un'yato, ma anche in cui in realtà si è tala ora o l'eo. Si è l'aricolo, a punto di tempo, a un'unica di diritto, a un'impegno, 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 a un'impegno. E' un'impegno che la morte. E' il nostro paio. E qua? E' un'impegno di un'impegno, in potenzione di una sinompa. E' un'impegno che l'impegno è comp чувствaro. il posto troppo tutti e quindi ero parli a giocare l'ulica ah e a giocare a giocare a giocare a giocare la giocare a giocare La scaricizia mia, tu vai? Ma... E tu sei fatto di cercare il posto nel Taicale? Il parking... Ah, il parking! Non è in fitta! Non ti... E' messo il mio giocatore! E tu... E tu... Stai partendo ora... Oh, oh, oh... Il rando... Ma... Ma... Ma ho... Ma ho! ? Ma... Gi' sta? No I... Ok, allora canna mettere la storia che vanno fuori che prosegono i miracoli Ma che cosa si chiudono ad essere a farciare proprio ilAesonato! Non è che mi fatto qui è arrivato a tequila! Troessi non è stato un errore che servono all'herito a tequila. so Gatti pizza! Gatti pizza! Gatti pizza! Gatti ho! Ehi! Sarri ho iata! Lupando lì! Perché? E hai tivisa un secreto? Noi noi! Ahi! Noi no! Ehi e testo è che ti è finito e tanta chassi in merito che hai tia! Ah è tanta chassi! Ehi! Beh! 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 Vandii heikina? Vandii heikina? Vandoo okatii tävrii kuulltajama, vandii etse kai! Vandii fiirido! Ahi... Mii sii vettab figuul? Ah, mitte jäata, jäi la venda niiga niivott Ah, niks osu siivott? Gattihoo vajahui haalti! Voi jäskìt pitta pat! Pida vestakan sa? Noii! Figa rohu! e il vostro un fatto a tutti si è fatta non abbiamo ma no ci sono dei nostri sinistono e ci sono si è fissuto esistono ma è che si è Alla, l'olio a scola di inizio, e stai da hasi, guarda, stai petto, hai? No vengo, e stai atti kursi, eh? Sei urmungu a mella? Puttala tu, guppa. Ha, 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 ha? Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Buongiorno. Vieni su chistona? Vai. Chico, hai, di l'anone idea? A te l'anone idea? E grea. No, hai, da l'anone idea. E' i sanzi. D' l'anone, inizio hai? Dovai. No, hai, vai. No, hai, vai, vai. Come me, hai, me. Hai. Come me. Hai, hai, hai. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.